Il titolo del giorno oggi è Bipper. Il bancario segna a Piazza Affari un rialzo del più 5% secco nella singola seduta. È il miglior titolo del Fuzzinib. Spesso quando scelgo i titoli che secondo me sono il titolo del giorno è perché premeggiano quantomeno sull'istrino principale, ma non solo. Ha tirato fuori una buona trimestrale che ha battuto all'attese l'ennesima trimestrale delle banche che supera le tesi degli analisti e questo vorrà dire qualcosa. Dopo la trimestrale sono anche arrivate le promozioni e ieri ad esempio a HSBC la Svizzera ha portato il top price, l'alzato da 5,20 a 6,40, la copertura è buy. Oggi leggendo anche questo articolo del Sole 24 Ore Leggo che forse un aiuto indiretto potrebbe essere arrivato non solo per Bipper ma diciamo così a tutto il settore delle banche dalle parole di Emmanuel Macron che come si legge in un'intervista a Bloomberg TV in poche parole vedrebbe di buon occhio fusioni cross border tra banche della loro zona. Agire da europee vuol dire avere necessità di un consolidamento europeo in questo caso il consolidamento tra banche. Ora non so se Macron sia così a caccia di consensi e quindi abbia fatto l'ennesima uscita in questo senso l'altro giorno parlavi invece di come sarebbe opportuno forse inviare le truppe europee al fronte con l'Ucraina insomma sta uscendo ultimamente dicendo la sua oggi a proposito delle banche va praticamente riprendendo un discorso che è un po' vecchio tanti altri si auguravano appunto un consolidamento nel settore e anche appunto tra banche europee ma a noi poco interessa interessa il grafico di Bipper e interessano ovviamente i livelli che potrebbe andare a toccare questo è il grafico giornaliero solo così qualche presa di beneficio prima della pubblicazione dei dati della trimestrale il titolo era sceso di poco sotto quota 4,60 ma il trend rimane fortemente positivo è tra l'altro un titolo abbastanza costante dopo ogni allungo fa dalle 5 barra a 10 sedute di consolidamento se andate a vedervi il grafico sono esattamente questo il range di sedute che si prende per andare a consolidare diciamo il nuovo strappo e oggi forse ancora meno perché chiude a 4,99,6 per cui è praticamente quasi arrivato sull'ex top price dei 5,20 ma ci sarebbe margine e sono d'accordo su quanto dicono gli analisti di HSBC perché quantomeno graficamente dal mio punto di vista avrebbe nelle carte diciamo così un allungo in questa fascia di prezzo per cui potrebbe tornare diciamo a rivedere i prezzi del 2009 barra 2010 qui saremo in area 6,40 da dire però che intorno a area 5,50 dove io penso sia diretto e non nemmeno in chissà quanto tempo potrebbe trovare insomma una prima resistenza perché qui insomma si fa tosta per cui a chi è interessato al titolo penso che entrare in corsa sia forse un rischio non vedo grandi margini di manovra se volessimo trovare diciamo un livello interessante su un grafico giornaliero se ci dovesse però arrivare subito un piccolo affondo in area 4,80 e 4,82 uno svarione ma penso che ormai sia appunto diretto verso l'alto per oggi è tutto grazie per l'attenzione e al prossimo titolo del giorno grazie per l'attenzione